Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Fate penitenza, non usate tablet e smartphone. Questo l'invito che si sono sentiti rivolgere dai sacerdoti gli 8.000 studenti a corsi lunedì in massa al santuario di San Gabriele, patrono d'Abruzzo, per il canonico appuntamento dei 100 giorni prima dell'esame di maturità. La massa ondeggiante, con le penne in alto a sfiorare il gran sasso innevato, ha ricevuto la benedizione del rettore del santuario, padre Natale. Poi l'invito ad astenersi per mezza giornata da selfie, cioè autoscatti, chat e web. In digiuno digitale dunque, al posto di quello fisico, la 37esima edizione si è svolta all'insegna della sobrietà. Non è più come fino a tre anni fa, quando l'alcol correva a fiumi e al centro della piazza si posizionava una damigiana di vino, spiega padre Natale Panetta, rettore del santuario. Ora è privilegiato, dice l'aspetto mistico. Chiusura immediata della sezione per detenuti psichiatrici del carcere di Pescara. Lo chiede la UIL, Polizia Penitenziaria, anche in seguito alle aggressioni subite dagli agenti nell'ultimo periodo. La richiesta è stata ratificata in un incontro con la direzione della casa circondariale. La questione, spiega il vice segretario regionale del sindacato, Mauro Nardella, riguarda i detenuti con infermità psichica o con vizio parziale di mente, la cui gestione, non essendoci più gli ospedali psichiatrici giudiziari, viene demandata a un istituto di pena, non dotato di mezzi né di personale adeguatamente formato, che per la gestione dei soggetti psicotici. Ad aggravare la situazione, insiste Nardella, c'è l'inversione di tendenza del numero di detenuti presenti in struttura, che sta vedendo un pericoloso incremento, se infatti passati dai 260 di qualche mese fa ai 306 attuali, riportando alla ribalta la drammatica situazione del sovraffollamento carcerario. Due forti scosse, rispettivamente di 3.5 e 3.2 di magnitudo, sono state registrate nella zona del cratere del terremoto in Italia centrale. All'Aquila, gente in strada dopo il boato di ieri alle 18.15, la prima scossa alle 16.57, ha avuto l'epicentro a due chilometri da Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata, e vicino a Ussita, Visso e Preci, sui Monti Sibillini. La profondità del sismo è stata a nove chilometri. L'altra scossa, particolarmente avvertita dalla popolazione all'Aquila, si è avuta alle 18.15 con magnitudo 3.2. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 5 chilometri dall'Aquila, dove è stato udito un forte boato con gli abitanti che sono scesi in strada. L'epicentro è stato a 10 chilometri di profondità. Per il rinnovo delle esenzioni ticket per motivo di reddito con scadenza al 31 marzo 2017 e per il rilascio di nuova autorizzazione, il distretto sanitario di Chieti ha attivato, nel periodo che va dal 16 marzo al 15 maggio, uno sportello dedicato, aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 11.45 al piano terra della palazzina, sede del servizio CUP, adiacente al vecchio ospedale Santissima Annunziata di Chieti. La documentazione da presentare è questa. Dichiarazione di autocertificazione depitamente compilata e sottoscritta. La modulistica si trova nell'ufficio preposto oppure sul sito internet www.asl2abruzzo.it, aree distrettuali e sede, sede di Chieti. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. Fotocopia della tessera sanitaria delle persone interessate. La data del ritiro del certificato di esenzione sarà comunicata nel momento in cui verrà presentata la dichiarazione di autocertificazione. Mentre prosegue il dibattito sul disegno di legge, cioè sulla proposta di riformare le concessioni balneari, a Pescara ieri è arrivato il ministro per gli affari regionali Enrico Costa, che ha partecipato ad un convegno sul tema di DDL delega di riordino delle concessioni demaniali, un'occasione da cogliere per il futuro delle imprese balneari. Il convegno era organizzato dalla Sib Conf Commercio Abruzzo Molise e da FIBA Conf Esercenti Abruzzo Molise. Il ministro ha detto, in merito alle problematiche dei balneatori sulla legge Bolkenstein, cioè la direttiva europea che riguarda proprio questo tema, e sulle varie proroghe siamo preparati e abbiamo adottato un disegno di legge delega che sarà esaminato in commissione alla Camera. La disciplina organica deve essere una disciplina che contempli tanti aspetti, ambiziosa, e spero, ha detto il ministro, che il Parlamento la approvi in tempi rapidi perché sarà poi necessario approntare i decreti legislativi e solo attraverso un'approvazione rapida noi saremmo in tempo per mettere in piedi questi decreti legislativi. Annunciano lo sciopero degli ombreggi i commercianti delle attività di Pescara che si sono visti aumentare le tasse per l'uso delle tende davanti ai loro negozi. Lo comunica il consigliere di Forza Italia, Fabrizio Rapposelli, appoggiando la protesta degli esercenti. Una protesta assolutamente giusta, dice Condivisibile, che porterò in commissione finanze chiedendo l'audizione di una delegazione di operatori. Nelle ultime settimane, spiega il consigliere di Forza Italia, si sta consumando una lunga serie di iniquità contro i commercianti pescaresi. La giunta Alessandrini alza a dismisura la tassa imposta ai commercianti fissi sugli ombreggi, ovvero sull'utilizzo delle tende dinanzi alle proprie attività. Commercianti che fino a pochi mesi fa si erano trovati a pagare appena 95 euro l'anno, ora hanno saputo di dover sborsare addirittura 1.300 o 1.400 euro, una tassa aumentata di 13 volte. Inquinamento acustico oltre i limiti stabiliti in quattro aree cittadine su cinque sono i risultati del monitoraggio realizzato nell'ambito dell'iniziativa del Treno Verde. Il Convoglio di Legambiente e Ferrovie dello Stato insosta alla stazione centrale di Pescara dal 12 al 14 marzo per promuovere i benefici dell'economia circolare. Il livello di inquinamento cittadino è stato rilevato in collaborazione con Valorizza Brand, Studio SMA, Gamlab e Orion, con il contributo scientifico della Sapienza, della CNR 2A e dell'Università Uav di Venezia. Il monitoraggio è stato effettuato nei giorni del 12 e 13 marzo e coloro che lo hanno effettuato spiegano che comunque non si sostituisce a quello previsto dalle parti dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, quindi è indicativo. Hanno incontrato padre Daniele, missionario combognano, i ragazzi della scuola media Ignazio Silone. Nella palestra della scuola gli studenti hanno potuto ascoltare l'esperienza di padre Daniele Moschetti da diversi anni in missione nel Sudan. L'incontro è stato organizzato dall'associazione Missione Possibile guidata da Pino Datri. Da cinque anni l'associazione conduce un progetto con gli studenti della scuola media Silone, incentrando la riflessione con i ragazzi su tematiche quali la condizione della donna nei paesi subsudiani o ancora sull'immigrazione, lavorando in sinergia con i docenti dell'istituto comprensivo e arricchendo l'offerta formativa degli alunni. Montesilvano diventa polo di attrazione per gli eventi sportivi di caratura nazionale e internazionale. A partire dal mese prossimo saranno diverse le competizioni patrocinate dall'amministrazione comunale montesilvanese. Il programma comincerà il 2 aprile con le prove del campionato regionale di pattinaggio Corsa su strada che si disputeranno lungo il circuito di via Alberto d'Andrea riservate alle categorie ragazzi, allievi, junior, senior, femminile e master. E siamo agli appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Innanzitutto diciamo del concerto di primavera corale e organistico che si terrà martedì 21 marzo alle 19 nella chiesa al cattedrale di San Ceteo a Pescara nel World Organ Day. I coinvolti organisti e cori di primo piano, organisti maestro Mauro Pappagallo e il maestro Marco Di Marco, i cori sono il cervo Nacalina e il coro polifonico di Pescara. Siamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno al mattino, coperto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, poco nuvoloso nel resto del pomeriggio e sereno in serata con temperature da 9 a 14 gradi e venti da deboli a moderati. Nelle zone interne pioggia al mattino, cielo coperto nelle ore centrali e nel pomeriggio e sereno in serata con temperature da 8 a 11 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio alla microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.